Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori oggi pomeriggio alle 15 al Franchi una sfida che ha già il sapore dell'Europa arriva l'Atalanta e il pubblico della Fiorentina risponde presente saranno infatti oltre 30.000 i tifosi sugli spalti occhi puntati anche sulla curva Fiesole la frazione più contestataria del tifo Viola sembra aver deposto l'ascia di guerra contro i della Valle per sostenere la Fiorentina per quanto riguarda la formazione confermato Piazza nel tridente offensivo accanto all'ispirato Chiesa e Simeone Gerson in mediana dal primo minuto gli aerobici dovranno fare a meno di Ilicic ex Viola e di Masiello per Fiorentina1.com Lorenzo Sommigli Viola Tweet Viola Tweet a cura di Fiorentina1.com la voce del tifoso Viola